ciao in questa incarnazione suonato nel 1946 in italia non tutti sapevano leggere ho assistito a dei fenomeni che oggi sono strani di uno che andava in banca doveva firmare delle cose faceva una X una croce e aveva due testimoni che dicevano è lui non tutti sapevano leggere però già da bambino si doveva parlare di sta scritto si è nato in italia dove sta scritto nell'antico testamento nella bibbia nei vangeli sta scritto poi sono andato viaggiato sono arrivato in india sta scritto dove nelle sacre scritture i musulmani sta scritto non dicono neanche dove per loro sta scritto solo in un libro il corano allora sta scritto ma scritto da chi molti dicono da dio ma la domanda che mi sono opposto anche da bambino è ma se non non tutti sanno leggere e scrivere è svantaggiato chi non sa leggere allora dopo chi legge per lui predica sta scritto sta scritto io sta cosa sta scritto lo senti adesso è un po che non lo sento dire più però per i primi vent'anni della mia vita quindi dal 1946 al 1966 sta scritto sta scritto adesso ultimamente dicono sta scritto nella costituzione chi l'ha scritto cioè non che la costituzione sbagliata ma c'è sempre sta scritto io ho capito che l'unica legge veramente uguale per tutti non è la legge uguale per tutti del pazzo giustizia ma la legge veramente per tutti quella del karma però l'idea del karma molti pensano che sia la legge di causa effetto però pensano a qualcosa di esterno invece il karma che ho capito io non è qualcosa di esterno non è che io faccio una cosa sbagliata e qualcosa mi colpisce dall'esterno no se io faccio una cosa sbagliata siamo mangiare animali o farli uccidere per mangiare sbagliato abbassa il mio livello di coscienza mettiamo l'esempio della vista mi si abbassa la visione la vista quindi ho bisogno degli occhiali o divento cieco ci sono delle persone che dal punto di vista spirituale sono cieche non vedono non riescono a vedere ci sono dei dei cattolici che mi hanno detto ma no ma gli animali sono strumenti sono un regalo di dio un regalo di dio ma perché sta scritto c'è da c'è da così dire ma no 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 sta scritto quindi io sono in regola mi ha detto uno sta scritto ma dove sta scritto poi se andiamo a vedere la genesi che una parte della bibbia dice vi ho dato le erbe no adatta a leggere sulla genesi che cosa dice dice che non gli ha dato da mangiare la carne nel paradiso nell'eden giardino dell'epra esoterrestri non mangiavo la carne hanno trovato tracce di agricoltura che risalgono a migliaia di anni fa nelle culture orientali tipo in india sono sempre stati vegetariani quindi sta scritto cosa in alcuni testi sta scritto che si può mangiare la carne in altri no però ci sono dei popoli che considerano quei testi diversi sacri io penso che sta scritto nella nostra identità genetica che non siamo carnivori univori si possiamo sopravvivere mangiando tutto quello sì ma non tutto perché alcune cose sono velenose non tutto quindi onnivoro è sbagliato possiamo mangiare tante cose ma i denti non sono carnivori guarda dalle foto di leoni di cani di gatti con la bocca aperta quelli che si chiamano canini sono il doppio dagli altri denti anche amato canini dei denti che abbiamo che sono posizionati dove gli altri c'erano più lunghi ma se la carne non è cotta non è condita chi la mangia chi va a uccidere e sbranare un animale no quindi non sta scritto proprio allora quando ti dicono sta scritto rifletti ma perché dio doveva comunicare con la parola scritta dice sta scritto nella roccia no nella roccia perché bosè no c'è la figura delle tavole prima non far questo non far quello non far questo alcune cose giuste non rubano uccidere però non uccidere non si capisce perché poi ammazzano gli animali non desidera la donna dati ma allora ti rivolge solo ai maschi insomma ci sono tante cose onora il padre la madre e perché non c'è anche onora anche i figli perché solo onora il padre la madre ho io ho visto dei genitori dire ai bambini di 5 10 anni tu non capisci niente non capisci mai niente allora il genitore sta onorando il figlio gli mette in testa davanti a diario non capisci niente non hai mai capito niente ho sentito dei genitori insultare i figli allora i figli devono onorare stare lì qui sono comandamenti maschilisti patriarcali autoritari però sta scritto dove nella roccia poi quando lui le avesse anche scritte nelle tavole della roccia ma se molti non sanno leggere scrivere invece secondo me sta scritto nel dna nostro noi non abbiamo le unghie gli artigli non abbiamo i canini abbiamo un corpo bello umano che per uccidere ha bisogno di una pietra di un bastone non naturalmente uno fa fatica a uccidere sono gli animali carnivori non fanno fatica sono veloci tata e abbassano e abbassano quindi noi sta scritto che cosa io adesso approfitto anche io ho scritto dei libri ma mi prendo io la responsabilità di quello che ho scritto i libri che ho scritto io non sono la verità sono il risultato di esperienze e realizzazioni spirituali che io ho avuto nel corso di questa incarnazione e di quelle precedenti quindi se vuoi ti mando la lista dei libri e tu scegli e se vuoi li leggi però sta scritto da chi da me non prendere come sia per oro colato per verità assoluta quello che ho fatto no è una condivisione e non ti fare suggestionare da chi ti dice sta scritto grazie a tutti